ok ragazzi rieccomi qua episodio successivo 5 forse 5 io sono qua non mi sono fermato continuo a registrare perché perché mi va perché mi piace assai perché è complicatissimo quando le cose sono complicate a me mi piace essere bellissimo la ci deve essere un demone e mi farà il culo mi farà il culo allora non permette che ne festo che la sale ho diventato un coso ma che funziona 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 io tolto quella cosa lì sotto adesso però andiamo fuori a combattere demone aia che cosa ero ah ha ricostrato ha rifatto su area questa qua si si questa la sapevo questa zona qua mi riesce a recuperare non abbastanza bisogna uccidere gli atti di quei bastardi non è abbastanza scusate ho perso il dialogo frecce ok col sale il sale è ottimo sale ottimo ottimo hai c'ho avuto hai c'ho avuto oggetti rari vabbè questo me ne leggero con calma ragazzi possiamo anche vedere adesso eh ok va bene armi uchikatana ok cabuto forfante eh vabbè ma dopo sono troppo pesante tanto dopo già già sto facendo fatica bisogna che che mi alleggerisco ma di parecchio eh ma di parecchio perché 70% vedo che ok vabbè queste robe qua ok cosa abbiamo qua oh cosa abbiamo qua scatami cinali materiale di difensivo una scatolina cilindia usata per portare con sé sigilli in medicine la superficie è laccata di nero e impreziosita con intriganti disini metallici ok 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 col polvere di o chico un sacchetto di polvere ricavata da una pietra usata per affilare spade aumenta normalmente la familiarità ok la familiarità va bene riesco a muovermi a stento vabbè anche io effettivamente c'ho una matura pesante ah talismani segna posto ma si metto talismani segna posto ah la pietra ci faccio oh no no vabbè no per dire che sono qua rimane quindi rimane speriamo che rimanga eh che figata ma quanto è bello quanto è bello ok perfetto ma qua c'è e quanti ce ne sono ah li potevo unire anche da questa parte qua ok beh le offriremo ah lì infatti però c'è un oggetto e lo prendiamo cos'è ok 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 un'altra roba bellissima bomba spaccanigo ah ma ho preso questa ah ma è la stessa ma perché me l'ha segnata Vabbè Pesarmatura Ah eh ok Sì l'avevo letto Demoni Una linea sottistica separa l'essere umano dal demone Coloro i quali perdono il controllo delle proprie emozioni Potrebbero ritrovarsi mutati Si potrebbe dire che ognuno di noi Risiede un demone Le anima città e gli uomini convolti nel caos della guerra Sono praticamente suscettibili Le terre una volta tranquille Oggi sono in base dai mutati Mutati non mutanti mutati Allora Qua ci sono stato tanto E tu? Cazzo ma perché Ma perché sono più veloci di me? Quanto cazzo sono lento Sono troppo lento Sono troppo lento Adesso buonanotte No vabbè sono troppo lento A me mi dispiace ma Dove è che vedo il peso mio Troppo lento Vabbè sto così Ok adesso si Si rascia Vai a cagare Ma per fortuna Ma interessa Ma interessa nessuno di voi Adesso voglio essere messi qui Fino a qua Si Si Ah però Però lo scatta meglio E' come se apre Ok Mi da l'idea di andar molto meglio Vieni Vieni E sono con attacchi pesanti Oh Eh si Eh si Ok Allora se li è chiuso Vieni qua Ma Sbaglio Sto andando meglio Cioè tutto Era solo il peso Cioè il mio problema Era solo il peso Dove siamo belli Sbaglio Ho fatto l'altro Dito prima Ok Purifica Recupra la quantità massima Di chi In un ritmo di chi Andando Ok vabbè E ti E ti Dissi Per Yokai Yokai Ma questo livello 10 Lo lasciamo in pace Queste le faccio off screen Per divertirmi E migliorare il mio Oh Nanetto Ciao Nanetto Ciao Ciao Sì puoi andare Non farò Nanetto No Eh ma io come lo apro qua Oh ci si Ci vado Eh sì perché mi dice Andar lì Ma io Persone mostre Chiave a residenza Ok Ah era qua Do c'era Ah vabbè Allora è questo Dai se apre così Sicuro Dai Infatti Bello Bello E tanta gente Ho bisogno di un E allora Santuario Basta dirlo Adesso io non devo capire Cosa sta succedendo A porti con le navi straniere Che sta succedendo Eh boh Ah boh Sale Io adesso devo capire Se come Dark Souls Cioè del tipo Se io esco dal gioco qua E non sono andato al santuario Mi riprende da qua Oppure no Oppure invece riprende L'ultimo santuario Ma comunque ho l'esperienza Cioè se perde l'esperienza O no Cioè questo devo capire Non ho capito Non ho capito Perché non ho fatto la prova Aspettate lo spirito piccolo Ok Vabbè Ma arriviamo anche Qualche nanetto Quelli che ho trovato Ok Levelo successivo Eh a sto punto No aspetta A sto punto Visto che mi sono messo leggero Eh sì Nove Nove Vale Dai Corpo nove 2009 Ma ce la facciamo Lì la 2009 Fai offerta Questa è la mia Merda Era raro Vabbè Fri a cazzo Rarità Esi sono belli Insolita Eh voglio 9000 9000 dai. Ok. Eccolo. Ah. Che sembri? Ah. Posso? Posso? Ah. Lo mette qua. Riesce i materiali. Riesce i materiali. Ah. Niente. Non posso mettere. Non posso mettere di più. Vabbè. Lo farò anche questo off screen. Pottini. Ah. Questo è il DLC. Vabbè. Lo ho già presi. Vabbè. Avviamo un po' quanto siamo belli. Ah. 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 E adesso sì. Aumento di riuscita di corsa. Reduzione. Siamo belli. Siamo belli. Siamo belli. E anche gli tigarelli. C'è qualcosa che non mi faccia stare. Oh. Da 40. 46. Però rimaniamo sul verde. No? Quindi posso mettere. No? O cambia. Cambia anche dall'interno del colore. Fortuna. Reduzione d'anno. Vita. La mettiamo? Sì. Proviamo eh. Se poi siamo troppo pesanti lo tolgo. Va bene. E noi ci fermiamo qui. Questa si apre. Solo dall'altro lato. Vabbè. Ci fermiamo qui. Ragazzi. Alla prossima. Ciao. Siamo così. Quando ci salutiamo. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Grazie a tutti.